Il Crotone apre un nuovo corso con l'arrivo di Silvio Baldini che prende il posto dell'esonerato Lamberto Zauli. Il nuovo allenatore è stato presentato alla stampa accompagnato dal presidente Gianni Vrenna, dal direttore generale Raffaele Vrenna e dal direttore sportivo Beppe Di Bari. Domande e risposte con i giornalisti prima di rilasciare le prime impressioni dal nuovo allenatore. Io spero sempre di fare un qualcosa di straordinario perché altrimenti non sarei venuto. E non sono venuto, oppure altrimenti avrei preso un contratto più lungo. Io sono venuto per fare un qualcosa di straordinario e devo cercare con tutte le mie forze di farlo. E quindi mi devo dedicare anima e corpo a questa impresa. Diciamo che lei parte da un punto fermo però. La solidità e l'ambizione di questa società? Certamente. Io sono vent'anni che conosco loro, ti ho raccontato l'episodio che è scattata questa scintilla fra me e questa famiglia. E come ti ripeto, io sono convinto che qua hanno fatto il calcio grandi allenatori del passato, che ci siano le possibilità perché me l'hanno fatto gli altri e lo possiamo fare anche ora. Con l'avvento di Baldini il Crotone cambia abito, non più 3-5-2 ma 4-2-3-1, il modulo che preferisce il tecnico toscano. Mi piace così perché penso di avere più soluzioni offensive, penso di essere meno prevedibile. Questa è una mia opinione però, sai, il calcio, come ti ripeto, poi ha visto solo del risultato. Quindi se fai il risultato è giusto, se non c'è il risultato non è giusto. Però a me questo non mi interessa perché ormai come età sono grande e vado a cercare, come ho detto prima, più me stesso nel risultato che cercare il risultato per essere gratificato me stesso. Quindi è un processo inverso. Il direttore generale Raffaele Vrenna ha spiegato come si è arrivati alla scelta dell'ex tecnico di Empoli Catania e Palermo. Dove l'avete trovato Baldini? Perché non c'era nessun attacquino di giornalisti. Baldini era sul mio, quindi la mattina, diciamo che la notte ci siamo io personalmente anche, ho dormito poco e ho iniziato a fare un po' di nomi nella mia testa e la mattina diciamo che quelli un po' più papabili sono stati quelli di... in testa c'era quello di Silvio Baldini. Fortunatamente è stato contattato anche in tempo perché come abbiamo detto prima era un allenatore ambito perché comunque qualche squadra ha cambiato e quindi siamo riusciti a convincerlo, soprattutto anche secondo me data la rosa importante che il Crotone ha a disposizione e la possibilità di lottare ancora per degli obiettivi, quindi il Mistra ha sposato la nostra causa.